Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi cominciamo a studiare le finali. Quella di oggi è la prima finale che ci interessa, Europa League, Bayern Leverkusen, Atalanta. Tra l'altro non ho capito perché giocano prima quella di Europa League rispetto a quella di Conference League che teoricamente è meno importante, però comunque questo mercoledì c'è la partita, è assolutamente importante per noi italiane, anche per la Roma, squadra che tifo, quindi l'andiamo a vedere perché è veramente super super interessante. Prima di cominciare ricordati di seguirmi e di lasciare un like così mi aiuti a far crescere questo benedetto canale. Insieme a me come sempre ci stanno i libracci di Metodostats4Bets e Tipster Robot, li mettiamo qui sotto e prima di cominciare però ti volevo far vedere questa cosa qui. Allora, sul blog, aspetta che ti ci porto, sul blog è uscito questo articolo sugli europei. è una presentazione di quelle che possono essere allo stato attuale le analisi da fare sugli europei che ovviamente seguiremo con il superfoglio e ovviamente tutti gli abbonati del superfoglio, senza dover pagare nessuna cosa in più, nessuna cosa a parte, ce l'avranno inseriti nel superfoglio perché, come vi ho sempre detto, gli aggiornamenti del superfoglio sono sempre gratuiti, quindi se noi miglioriamo qualcosa durante il periodo dell'abbonamento viene inserita e ce l'hanno tutti senza dover pagare ulteriormente. Tra l'altro penso tra oggi, domani, dopo domani uscirà un altro articolo perché oltre agli europei, se cliccatevi ve lo trovate, c'è la Coppa America. Sarà un periodo veramente molto interessante perché, tra l'altro, entrambe le finali ci sono il 14 luglio, quindi sarà un mese intenso la notte la Coppa America, il giorno gli europei e poi sotto, se andate a scorrere un pochino, c'è anche una piccola promozione grazie ai bookmaker sponsor con cui collaboro che permette di seguire proprio sul superfoglio sia gli europei e poi vedremo la Coppa America grazie al contributo che danno i bookmaker. Quindi, se ti interessa, vai sul blog e trovi tutto spiegato. Andiamoci a prendere proprio il superfoglio e andiamoci a vedere questa partita di finale. Allora, Europa League, Atalanta-Bayern. In un video precedente avevo un po' parlato della poca simpatia di Gasperini. Cioè, a me piace moltissimo l'Atalanta. Da quella parte non la inquadro perché dovrei stare a spostare mille cose, ma ho una maglietta dell'Atalanta. Ah, sì, ve la faccio anche vedere. Qui. È autografata, firmata dal Papu Gomez. Quindi, quando parlo dell'Atalanta, non ne parlo mai in senso negativo per qualcosa legato al tifo. Cioè, per me l'Atalanta che sta sopra la Roma è giusto come piano di gioco, come rendimento, eccetera, eccetera. Però non si può dire che Gasperini sia una persona simpatica. Questo non si offenda l'Atalanta, la tifoseria. Al limite si potrà offendere Gasperini. Ma non credo che gliene freghi niente di me. A me non mi sta simpatico. L'uscita che ci ha avuto su un Dicà dicendo che la partita della Roma era stata rinviata per un codice giallo è uno dei suoi picchi di antipatia massima. E non posso negare che, quando poi ha perso con la Juventus, un minimo... Cioè, te sta bene, capito? Perché c'hai una squadra fantastica, giochi in modo fantastico, a livello di allenatore sei uno dei migliori, perché devi essere anche un testa di... Cioè, guardate Ranieri, Ranieri del Cagliari. Cioè, super, no? Quindi, va bene, questa è una cosa mia con Gasperini. Quindi, non mi è dispiaciuto che abbia perso contro la Juventus. Mettiamola così. In finale parte favorito il Bayern, perché comunque vincere la Bundesliga nel modo in cui l'ha vinta il Bayern significa che c'hai veramente una grande, grande squadra. C'è una cosa, però, che mi piace, che mi fa ben sperare, ed è la Formula 4. La Formula 4 sappiamo che è quella composizione di quote che porta alla possibilità del gol della squadra sfavorita. E considerando l'Atalanta, il gol dell'Atalanta è molto nelle corde della sua squadra. contro la Juventus non è riuscita a sprigionare il suo potenziale, ma considerate che la Juventus probabilmente l'aspetto difensivo è proprio uno degli aspetti più forti, soprattutto quest'anno, della Juventus. Il Bayern Leverkusen ha un grande impianto offensivo, però diciamo che se può concederti qualcosa, come ha fatto vedere anche la Roma, te lo concede proprio dietro. Quindi la possibilità del gol dell'Atalanta non la escluderei del tutto. Sicuramente ci sono quote molto alte, a 1,81-1,95, quando la composizione è così, non c'è un esito favorito. La statistica al 53% non è una statistica favorita, quindi da questo punto di vista, numericamente parlando, non abbiamo i numeri. L'over a 1,90-1,90, quando i bookmaker fanno così, perché fanno così? Perché tanto loro, con l'allibramento, ci guadagnano lo stesso. Offrendocela 1,90-1,90, con un allibramento a 5,26, il bookmaker comunque ci guadagna, sia se finisce under, sia se finisce over. Ci guadagna poco, perché è uno 0,26 in più, però comunque l'allibramento per come sono spostate le quote porta il bookmaker ad avere un piccolissimo agio. Per noi, in questo momento, invece non c'è segnalazione, non ci dà niente di utile. Statistica 51,48, cioè, ti dice, cioè, è come se alzasse le mani, dice, fai tu, non lo so, tanto io ci guadagno lo stesso. Quindi, da questo punto di vista, è molto complicato. Il flashback su quote simili, sposta leggermente sull'under, così come la statistica sposta, ma veramente questo è niente, 51 è niente sull'analisi prettamente statistica per dire che è favorita una o favorita l'altra. Quello che sappiamo è che la formula 4, oltre al gol della squadra favorita, sfavorita, porta, per oltre l'81% dei casi, senza guardare statistiche, numeri, squadre, eccetera, eccetera, porta a partite con almeno due gol. Quindi, quando c'è la formula 4, che riguarda le quote della 1x2, quindi, senza analizzare tutto il resto, solo per le quote della 1x2, quando c'è la formula 4, per oltre l'81% dei casi, ci sono almeno due gol. Qui c'è da considerare il fattore finale, quindi, la formula 4 nasce nei campionati, la riutilizziamo anche nelle coppe, però una finale è sempre una finale, quindi c'è un aspetto emotivo, un aspetto, come possiamo dire, di contesto, che non è quello abituale. Quindi, il rischio che poi i due gol non ci siano effettivamente, ci può anche stare. Però, secondo me, al novantesimo, un 1x1, in una partita di questo genere, lo potremmo tirare fuori. Vedo favorito, comunque, il Leverkusen, perché, ragazzi, quest'anno hanno giocato 60 partite, non hanno mai perso. Quindi, è una squadra che non può immaginare che l'Atalanta vinca 3-0. Però, come ha detto lo stesso Gasperini, è probabilmente l'apice della sua carriera, l'apice dell'Atalanta, la partita più importante in assoluto. L'Atalanta ha continuato a fare il suo gioco e a parte la partita con la Juventus ha anche impressionato, vanno 2.000 all'ora. Io, al novantesimo, non me la sento di dare sconfitta all'Atalanta. Non vorrei darla sconfitta all'Atalanta. Quindi, un'analisi normale sarebbe da x2 per me. Un rischio da prendersi potrebbe essere l'esito gol, che tra l'altro è una quota molto alta, a 1.80 e mi dà la speranza che magari al novantesimo finisce 1-1 e l'Atalanta poi, ai supplementari o ai rigori, faccia un piccolo miracolo e porti a casa questa Coppa. Io, diciamo che, da difoso della Roma, spero che la Coppa la alzi l'Atalanta. Il pronostico è x2, il rischio che mi prenderei è sull'esito gol. Per questo video, direi che è tutto, ci vediamo nel prossimo video.